Il GIP del Tribunale di Pescara Maria Michela di Fine ha convalidato l'arresto della 33enne nigeriana Api Ayegbeni, accusata dell'omicidio preterintenzionale di Donato Pangiarella, 74 anni, pensionato di spoltore, delitto che è avvenuto sabato pomeriggio in uno stabile di via Cerrano a Montesilvano. La donna ieri mattina ha risposto alle domande durante l'interrogatorio davanti al GIP e al pubblico ministero Giampiero Di Florio, titolare dell'inchiesta, assistita dal suo legale Albaronca. Api Ayegbeni ha ribadito la sua innocenza e la versione dei fatti raccontata ai carabinieri che l'hanno arrestata domenica. Cioè, dell'incontro fortuito al supermercato, di un tentativo di violenza sessuale da parte dell'anziano, di una colluttazione finita con l'uomo che batte la testa sullo spigolo della vasca per poi essere colto da infarto all'interno dell'ascensore condominiale, dove è stato portato dalla stessa donna e da un condomino. Gli inquirenti però hanno in mano l'autopsia dell'anziano, che ha sì confermato che è morto per infarto, ma non che la spinta a Pangiarella sia arrivata da davanti, come detto dalla nigeriana. Ma soprattutto, alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato Oasi, che sembrerebbero mostrare un vero e proprio appuntamento tra i due, circostanza che avvalorerebbe la tesi dell'accusa di un semplice ripensamento della donna sul rapporto sessuale e non di una tentata violenza. Altri indizi interessanti per poter ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto nell'appartamento di Via Cerrano potrebbero arrivare dai rilievi scientifici dei RIS, sui vestiti indossati dalla 33enne nigeriana e sulle tracce lasciate nel bagno dell'appartamento.